Ciao a tutti, in questo video vi racconterò qualcosa di me, in particolare vi racconterò 15 fatti a caso che non conoscete, prima però voglio mettere un po' di lip gloss ho le labbra un po' disidratate, questo è un lip gloss naturale della Lili Lolo allora cominciamo dal fatto numero 15, il fatto numero 15 è che io ho già fatto un video di fatti a caso, l'ho caricato sul mio vecchio canale che al momento è inattivo e sul quale non ci sono più i vecchi video appunto, però è divertente, in quel caso si trattava del videotag i 5 fatti a caso e aveva una vena un po' comica comunque il fatto numero 14, il mio nome di battesimo è Federica e questo lo sapete tutti, ma il mio nome alla nascita non era Federica perché io appena nata mi chiamavo Elisa e poi mia madre ha deciso di cambiare il mio nome prima che uscissi dall'ospedale, però devo dire che il nome Elisa mi è rimasto nel cuore ed è un nome bellissimo dal suono molto dolce, a mio parere anche più bello del mio, anche se in fondo il mio mi piace, però non lo so, credo che Elisa mi stesse meglio, voi che ne pensate? il fatto numero 13, io ho imparato a leggere e a scrivere anche in corsivo a due anni e mezzo diciamo che da piccolina ero praticamente una sorta di genietto e tra l'altro avevo imparato tramite un gioco che si chiamava Grillo Parlante ed era una specie di computer, si potevano premere i tasti con sopra le lettere e questo computer portatile di colore rosso riproduceva il suono della lettera che era sul tasto spinto e praticamente componeva delle parole, ricordo che ci giocavo molto volentieri, qualcuno di voi che magari è nato negli anni 80 potrebbe ricordarlo, comunque fatto numero 12, io ho due lauree, una laurea triennale in filosofia e una laurea magistrale in teoria in scienze filosofiche, solo che la laurea magistrale è sbagliata nel senso che sulla pergamena hanno scritto scienze economiche anziché scienze filosofiche e questa cosa mi fa davvero molto divertire perché per ricevere la pergamena ho atteso circa due anni dal momento in cui mi sono laureata, sono trascorsi circa due anni e poi appunto mi hanno dato la pergamena sbagliata e ancora non l'ho riconsegnata perché non ho avuto tempo, ma una volta che la riconsegnerò alla mia università dovrò aspettare, mi hanno detto probabilmente un altro anno per poter ricevere quella giusta, ditemi voi se vi sembra normale. Passiamo al fatto numero 11, il fatto numero 11 è che il mio animaletto preferito è la lucertola, io ho avuto sempre animali domestici, ho iniziato con un pesciolino di nome Cleo che i miei genitori mi hanno sostituito un paio di volte perché credo che la prima volta non fosse vissuto a lungo. Insomma, non so, hanno cercato di sostituirlo. Poi ho avuto degli uccellini bianchi che si chiamavano Rossellina e Ciccio se non mi sbaglio e anche quelli sono stati sostituiti. storie dell'orrore. Poi ho avuto un cagnolino di nome Camilla e poi è arrivato Jesse, al quale sono molto molto legata e che però non è il mio animaletto domestico, è semplicemente un mio amico e anche perché non vive a casa con me. Comunque questa storia per dirvi che nonostante tutto il mio animale preferito continua ad essere la lucertola. Fatto numero 10. Io odio collezionare cose. Ho degli oggetti della stessa categoria in quantità, in grandi quantità. Per esempio ho molti trucchi, ma semplicemente per il fatto che mi servono, nel caso dei trucchi nello specifico è perché io lavoro anche con quelli e quindi devo avere diciamo un kit piuttosto ampio. Però per esempio per quanto riguarda i trucchi con i quali io trucco me stessa ho veramente pochissime pochissime cose e ho la fissazione di dover terminare un prodotto prima di ricomprarne un altro. O comunque se mi capita di avere dei doppioni prodotti della stessa categoria mi nervosisco. Quando vedo che inizio a comprare troppi articoli di una stessa categoria mi viene voglia di cambiare perché appunto non amo fare collezioni o comunque voglio che siano sempre piuttosto limitate e non amo nemmeno vedere le collezioni degli altri perché non lo so mi danno un'idea di qualcosa di strano. Lo so sono pazzo. al numero 9 non ricordo circa l'80% dei film che vedo e questo è terribile perché sono una grande appassionata di film, serie tv e cinema in generale ma ho davvero gravi difficoltà a ricordare innanzitutto nomi degli attori, nomi dei registi nel caso non facciano parte dei miei preferiti e anche le trame. A volte vedo dei film che mi piacciono molto e a distanza di pochi anni non ricordo minimamente di averli visti, non ricordo la trama e solo dopo uno sforzo piuttosto faticoso. Arrivo a ragcapezzarmi. Questa cosa è veramente terribile. Tra l'altro mi capita quasi lo stesso con i viaggi però non dite lo a nessuno. Al numero 8 sono stata costretta a frequentare il liceo classico ma in realtà avrei voluto frequentare l'artistico. A me piacevano praticamente tutte le materie di scuola ed ero particolarmente brava in tutte, però sapevo che non avrei voluto frequentare una facoltà scientifica né una facoltà linguistica e le maestre e le professoresse mi dicevano che avevo un dono per la scrittura quindi mia madre mi ha indirizzato verso degli studi diciamo classici pensando che al liceo classico si studiasse all'italiano. Il problema è che appunto non si studiava solo l'italiano. Però ero molto portata anche per il disegno e mi spiace molto di non aver potuto coltivare questa mia passione perché a oggi non mi ritengo poi così brava a disegnare. Non lo sono perché non ho imparato le varie tecniche e non ho esercizio. Però avevo una predisposizione per quello e poi in generale per tutto ciò che riguarda l'arte, la storia dell'arte. Il liceo classico secondo me ha un po' spento la mia vena creativa che era invece molto presente e che in effetti si è riaffacciata al completamento degli studi. Poi fatto numero 7. All'età di 17 anni ero seriamente convinta di possedere il superpotere della telepatia e con una mia amica che si era allo stesso modo autoconvinta di essere telepatica come me. Cercavamo molto spesso di chiamare telepaticamente delle persone per far sì che si girassero nel caso fossimo a scuola e non potessimo parlare o che ci raggiungessero nel caso fossimo da qualche altra parte. Una volta ricordo in vacanza abbiamo intensamente pensato a una persona che avremmo voluto incontrare e abbiamo iniziato a chiamarla telepaticamente. Comunque questo superpotere tra noi due funzionava alla grande perché ripetendoci con il pensiero di gerarci, cioè chiamandoci per nome con il pensiero accadeva che la persona chiamata si voltasse e quindi niente ero convinta di possedere questo superpotere fantastico e molto utile. Fatto numero 6. Qualcuno di voi questo già lo sa, quindi sto parando praticamente. Alla mia laurea magistrale non c'era nessuno, o meglio è entrato in stanza con me durante la discussione soltanto il mio fidanzato e soltanto perché ha ampiamente insistito, ma anche fuori dall'aula non c'era nessuno e non ho festeggiato con nessuno. Ho semplicemente chiamato i miei genitori una volta terminata la discussione e ho comunicato il voto ovviamente. E niente, quindi insomma c'è stato un brevissimo festeggiamento telefonico. Però insomma non c'era nessuno, anche alla laurea triennale a dire il vero, c'erano pochissime persone e solo perché queste persone hanno troppo insistito per entrare. Una di queste era il mio fidanzato di allora, l'altra era la mia migliore amica che voleva a tutti i costi fare da supporto morale senza sapere che in realtà per me sarebbe stato meglio essere da sola e i miei colleghi di università che insomma erano lì e quindi hanno voluto assistere in tutto tre persone, se non sbaglio, dell'università e quindi però nient'altro, nessun altro. Poi il fatto numero cinque è che io odio i ritardi. Questa è la seconda cosa che odio nel video sui 15 fatti di me che non conoscete. Odio i ritardi talmente tanto che ho avuto molto spesso la tentazione di andarmene dopo aver aspettato qualcuno troppo a lungo e in prima persona cerco sempre per quanto possibile di essere puntuale ma soprattutto se non riesco ad esserlo perché a volte spostandosi con l'automobile è complicato prevedere precisamente i tempi. Comunque dicevo anche se non riesco ad esserlo avverto sempre almeno dieci minuti prima o dei minuti di ritardo che purtroppo farò e quindi ho anche una specie di trauma relativo a tutto il periodo della scuola perché io sono sempre arrivata in ritardo quando era a scuola però non per colpa mia ma per colpa dei miei genitori che mi accompagnavano e quindi è stato brutto. A volte lo sogno ancora. Il fatto numero quattro è un po' strano ed è che io saluto gli alberi. Praticamente in primavera vedo fiorire degli alberi che non ho mai capito se siano dei peschi comunque hanno dei fiori rosa non sono fiori di ciliegia. Li vedo fiorire in città e questa visione mi riempie di gioia sembrava una cosa assurda assurda e veramente troppo troppo strana però è vera e la gioia derivata dal fatto che io beta questi alberi in fiore fa sì che io li saluti. Fatto numero tre. Io ho qualche problema a parlare la lingua inglese e la capisco abbastanza bene e la scrivo abbastanza correttamente ma ho davvero dei problemi a parlarla perché innanzitutto ho ancora oggi un altro sottospacio di trauma relativo alle interrogazioni di inglese del liceo. La professoressa interrogava praticamente sempre me e io stavo molto male durante l'interrogazione anche se prendevo sempre voti alti però credo che tutto derivi dalla mia ansia da prestazione si può dire perché so di non essere perfetta quando parlo l'inglese e questo mi pone in una condizione di disagio nei confronti dell'interlocutori perché ovviamente vorrei esprimermi meglio e so di non riuscirci e anche se non è detto che tutti si aspettino la perfezione da parte mia ho ancora qualche ostacolo mentale nel fare i conti con questa impossibilità di dare il meglio ovviamente io riconosco i miei limiti in moltissime moltissime cose per esempio non so tenere il tempo e molto altro ma nel linguaggio la cosa mi turba perché insomma è il modo più facile che ho per comunicare, per esprimermi e avere dei problemi o non saper perfettamente comunicare ed esprimermi anche se in una lingua che non è di fatto la mia lingua madre mi dà fastidio poi fatto numero due è una cosa un po' paranormale e spero che non vi spaventiate a volte sono convinta di aver vissuto delle cose che ho solo sognato e in certi momenti mi fisso proprio sul fatto che io abbia vissuto determinate esperienze che in realtà non ho vissuto e che sono anche consapevole spesso di non poter aver vissuto altre volte mi rimangono impressi dei luoghi che probabilmente ho davvero solo sognato che sono un mix di ricordi, invenzioni e non so cos'altro e altre volte si tratta di vere e proprie esperienze e parlando con chi ha vissuto quelle esperienze insieme a me mi rendo conto che il mio ricordo è totalmente totalmente falsato per esempio per un periodo ho iniziato a credere in maniera quasi cieca nel senso che si sapevo che fosse impossibile ma ci credevo non potevo farci niente che il mio cane fosse caduto dal balcone e non so se capita anche a voi questo avevo anche letto la spiegazione scientifica del perché a volte ci sono questi strani bug nel cervello però giuro che non mi drogo e non bevo e per finire vi lascio con il fatto numero uno che è simpatico e questo probabilmente capita anche a qualcun altro ed è che io faccio dei veri e propri viaggi nel tempo attraverso le canzoni cioè alcune canzoni rimangono talmente impresse in me da riportarmi anni dopo riascoltandole indietro nel tempo al momento in cui le ascoltate magari per la prima volta o le ascoltavo in maniera più intensa e più frequente e questo è molto bello perché tramite una canzone io riesco davvero a fare un viaggio nel tempo e a riprovare sulla mia pelle le stesse identiche sensazioni con la stessa intensità di quando avevo ascoltato tanto tempo prima quella stessa canzone e è il mio modo per viaggiare e sono molto felice di avere questa possibilità anche se come le altre cose che vi ho raccontato d'altronde sembra tutto molto strano bene il video è finito spero che vi sia piaciuto io adesso vado a prepararmi per dormire e sono molto molto stanca quindi questo video sarà uscito probabilmente abbastanza in ASMR saluto con tanto affetto tutti 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 voi e in particolar modo saluto la mia amica Margie la mia amica Marghe ed anche Eleonora sto per iniziare a leggere il tuo libro lei parlo di Eleonora Clamorous mi ha inviato appunto il suo nuovo libro e ho intenzione di leggerlo al più presto e magari anche di parlarvene detto ciò se vi va ci vediamo come al solito nel prossimo video a presto l'anima l'anima l'anima